allora sto facendo la crostata allora ho messo già 300 grammi di farina ora ci aggiungo 60 grammi di zucchero potete anche mettere lo zucchero di canna non ce l'ho uso lo zucchero normale 150 grammi di puro morbido oppure in alternativa potete mettere la margarina 3 torni d'uovo questa qui non la vado a buttare ma semplicemente vado a creare un'altra ricetta con degli albumi mezzo cucchiaino di lievito per dolci mezzo cucchiaino di scorza di limone se non avete limone va benissimo anche l'aroma al limone finito ci metto solamente mezza fialetta perché per l'altro se basta mezza fialetta però se volete sentire proprio modo intenso mettete tutto però già mezza va benissimo posizioniamo il misurino ruotare la monopola per due minuti velocità spiga a questo punto trasferiamo tutto l'impasto e lo andiamo a lavorare non troppo con le mani guardate quanto è bello grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Non si può fare, assolutamente. Qua si può fare solo spesa giornaliera. Fammi andare a vedere qui le due ranocchiette là che urlano. Non mi vado a fare un bel trucco che mi va a evidenziare. Viene il viso. E' un po' che urlate? Non urlate. E' due minuti e poi fuori dall'acqua. Ma li posso vedere perché stanno nudi. Stanno a giocarellare gridando. Perché ve l'ho detto che mio figlio oramai sarà un mese e mezzo, due. Che non parla, urla, gioca e urla. Fa tutto urlando. Allora, mi sono asciugate i capelli. E sto usando questi qua, questi qua, i cristalli illuminanti agli oli preziosi per capelli lucidi e brillanti. Non so, mi sono messa pure lo smaltino. Li faccio vedere. Ora mi stiro i capelli. Cioè, li faccio una piega molto, molto, molto veloce. Perché ho poco tempo, come al solito. Io preparo agli altri. E l'ultima. La preparata sono sempre io. Quindi, faccio una piega velocissima. Proprio velocissima. E mi vado a capire il trucco veloce. Samana, andiamo a mettere le scarpe ai bambini, per piacere. E mi vado a capire. Mi vado a capire. E mi vado a capire. Amo! Ecco qua. Finito. E ora mi vado da una truccata molto, molto, ma molto veloce. E' che io solo le truccate veloci posso fare. Fermo! Mi aspetta giù. Quando uno mi deve mettere proprio il tempo per fare le cose, mi fa innervosire. Vabbè. Passo da un bagno all'altro. Appoggio qui e faccio vedere che bel trucco veloce veloce. Allora. Metto la matita nera. Metto la matita nera. Metto la matita nera. Fermo. Un po' di correttore qua sotto agli occhi. Ecco qui e ecco qui. Spegnello un po'. Ecco qui. Metto pure qua. Mi sembra che mi sto ungevendo. Vabbè. Questa qui. Siamo a posto. Fermo. Prendo la terra veramente. Mi sto truccando l'incontro. Non lo so, non ho un filo logico di come mi sto truccando. Vedete se abbia da meno il trucco. Ecco qua. Posto. Questo qui. Corriamo. Per mettere un colore chiarissimo proprio. Per fare per la bianca daverica. Corriamo. 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 Al negozio. Al negozio. A posto. Un filo di mascara. Un trucco veramente. La schifezza maniera. Io sto perché sembro proprio bianchissimo. Tutto qua. Mamma mia. Non è male che c'è il trucco che fa miracolo. Ecco qua. Questo mascara. Sto dicendo il rime. E' della Navor. Mi trovo benissimo. Allora mi vado a fare un vasto sopracciglio. Perché adesso sono schiarita. Non lo so che ho ficcato sopra. Da prendere proprio. Che non è. Da prendere proprio questa qui. E' della Essence. E' da prendere questo un po' più chiaro. Qui sta il pennellino. Quando vado di fretta io. Dov'è il pennellino? Sento già mio marito. Quando si muove? Perché io non ho una logica dei pennelli? Questa è la mia realtà di video. Qui non c'è trucco e non c'è ingame. Ho trovato. Tutto questo qui. Da prendere un pochettino. Guardate qui. Aspetta, un grosso sbaglio. Questa notizia. Questa notizia. Posto, 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 posto. No, domani. Sta qua. questa qua è quella della Essence trucco finito